Bene, benvenuti a tutti. Iniziamo questo ciclo, questo nuovo ciclo. La scorsa volta ci siamo lasciati, abbiamo seguito insieme un ciclo sulle 26 qualità, le 26 virtù, le 26 qualità divine che dovremmo sviluppare nella vita. Abbiamo fatto questi 26 incontri molto piacevoli, molto stimolanti almeno per me e appunto parlando di queste qualità, parlando di queste qualità a un certo punto ci siamo resi conto che facciamo fatica a far tutto da soli, che facciamo fatica a sviluppare queste qualità che ricordiamolo che Krishna equipara proprio alla conoscenza, cioè la conoscenza messa in pratica, quindi la vera conoscenza, non la conoscenza teorica ma la vera conoscenza. E' praticamente impossibile fare tutto da soli e quindi abbiamo bisogno di metterci in contatto con Dio, con Krishna, abbiamo bisogno di metterci in contatto con un piano superiore a noi, con un piano superiore a noi, perché le nostre forze non sono bastevoli a questo impegno, a questo traguardo che vorremmo raggiungere. Tra l'altro un verso che abbiamo più volte esplorato nel corso delle lezioni di quell'incontri sulle 26 qualità del devoto è quel verso, il capitolo 5 e il verso 29 della Bhagavad Gita, quando Krishna dice, a tre quarti del verso, dice Suridam Sarva Bhutanam, io sono l'amico più intimo di ogni essere vivente, di tutti, sono l'amico più intimo di tutti, di tutti gli esseri viventi. Sarva Bhutanam, di tutti gli esseri viventi, tutti, tutti, quindi non solo noi umani, non solo noi, tutti, tutti, proprio tutti gli esseri creati, lui è l'amico più intimo. E dopo dice anche che gli siede proprio nel cuore di ognuno. E quindi in qualche modo, l'amico più intimo, ricordiamolo, è proprio, significa l'amico più aderente, più stretto, quello sembrerebbe quasi l'unico vero amico, tutto il resto sono delle emanazioni sue, quello che pensa sempre al nostro bene, sempre e solo al nostro bene. E questo ci ispira ovviamente a creare una connessione, a cercare una connessione con questo nostro amico più intimo, perché sembrerebbe che ci possa fare del bene, che ci possa fare del bene. Poi più avanti anche nel capitolo 9, al verso 34, un famoso verso che dice E dice ricordi sempre di me, sì mio devoto, e rivolgi le tue offerte a me, a me inchinati. Connettendo così la tua anima pienamente devota a me, sicuramente verrai a me. Quindi in che modo? E anche questo, anche questo verso ci esorta a cercare, come tanti altri versi della Bhagavad Gita e delle scritture, ma insomma parlo della Bhagavad Gita perché ne abbiamo parlato tanto e poi dopo lo state seguendo, nell'ultimo anno lo state seguendo in modo ancora più approfondito attraverso il commento e la guida autorevole di Gridari Prabhu. Dice come, dico, anche questo verso ci ispira a creare, a cercare una connessione, a cercare una connessione con Dio, perché proprio lui ce lo richiede, dice coloro che se tu diventi mio devoto, se tu ti ricordi sempre di me, ti ricordi sempre di me, se tu rivolgi a me le tue offerte, che vuol dire anche proprio le tue parole, i tuoi pensieri, le tue azioni, e a metti inchini, in senso, no, non è solo una questione esteriore, ma proprio a metti affidi, ecco, a metti i prostri, connettendo così perché questo rende connessa la tua anima a me, sicuramente verrai a me, che noi siamo qui, le ricordiamoceli, per tornare, non siamo qui per costruire, realizzare, fare, scrivere, ma siamo qui per tornare, poi il resto sono tutti anche piacevoli strumenti per poter tornare, anche queste qualità che abbiamo visto, queste 26 qualità, portano la persona a tornare da Dio, magari a essere qua, ma essere pienamente connessa con Dio. e quindi da questo, da queste riflessioni, che erano un po' trasversali alle lezioni che avevamo fatto, da queste riflessioni è messo anche il desiderio di fare un corso specifico, così, una serie di incontri, non è proprio un corso, perché non è che mi insegno, io non ho questa pretesa, però il fatto di mettere sul tavolo, mettere sul piatto questo argomento che ritengo che sia necessario per un ricercatore spirituale, necessario per chi vuole essere devoto, chi vuole approfondire il suo percorso nella devozione e nello sviluppo dell'amore per Dio. Mi sembra un tema che sia assolutamente basilare, quello di creare, di creare un momento, di creare uno spazio, un ponte di contatto con il Signore. E quindi da qui il desiderio appunto di riflettere, di pensare, di strutturare anche questa serie di incontri. Come saranno strutturati questi incontri? Tanto sarà un mix, sarà un mix tra condivisione, lezione, possiamo dire, una condivisione, letture, in qualche modo potrebbe essere una sorta di workshop. E come pensavo che è come ripercorrere una spirale tridimensionale al contrario, cioè cercheremo di andare sempre più in profondità, sempre più verso il centro, magari ritoccando man mano degli argomenti che abbiamo trattato, magari in modo un po' più superficiale, man mano che proseguiamo avremo anche gli strumenti, avremo anche l'esperienza per poterla approfondire un po' di più e quindi approfondirle con una nuova consapevolezza che nel frattempo ci auguriamo di poter creare. Appunto, sì, ripercorriamo una spirale tridimensionale al contrario, cerchiamo di avvicinarsi, vi ricordate che dicevamo che tutti noi abbiamo, siamo delle orbite attorno al Signore che è il centro, la maggior parte di noi siamo inconsapevoli che stiamo girando intorno a Lui, ma di fatto lo siamo. Krishna lo dice, che le persone arrivano comunque, stanno comunque, hanno comunque Lui come centro, in qualche modo arrivano a me e secondo quel modo io relaziono secondo il modo in cui loro scelgono di rivolgersi a me. Quindi siamo comunque tutte delle orbite, cercheremo un po' di cercare dei sentieri che ci avvicinano sempre di più a Lui. Leggeremo e commenteremo alcune famose preghiere cercando di entrare nel loro spirito e rifletteremo soprattutto su come possiamo migliorare il nostro rapporto personale con Dio. Quanto durerà questo ciclo? L'altra volta avevo 26 qualità, a parte che io pensavo di metterci molto di meno, poi mi sono accorto che ogni lezione era appena sufficiente per parlare di una. Io pensavo all'inizio, mi ricordo che pensavo di metterci a fare 3-4 qualità per incontro, ma poi già al primo incontro mi sono accorto che non era fattibile. In questo caso, come avete ben intuito, l'argomento è veramente vasto, perché può raccogliere, può racchiudere un po' tutto, perché di preghiere insomma siamo pieni già. Insomma il Bhagavatam è pieno, la città necessità amrita, per parlare solo delle nostre scritture, per parlare solo delle scritture all'interno della tradizione vascinava, ma vorrei anche toccarne altre. Quindi è veramente vasto. Io direi che possiamo continuare fino a quando non siamo soddisfatti, fino a quando non abbiamo visto, che potrebbe essere anche fra poco, fino a quando non abbiamo visto che abbiamo degli strumenti, che abbiamo degli strumenti anche per proseguire in modo individuale, ma io spero che i primi strumenti decidono già, se non da questa lezione della prossima, ma immagino già da questa. Quindi insomma, per il momento, questo è un modo, come dire, elegante per dire che non ho una struttura ben specifica, che dico, ecco ci metteremo 8, 4, 8, 12, 16 incontri, di meno o di più, ma perché ho cercato di pensare molto a questo tipo di seminari, insomma, a questo tipo di approfondimento. In effetti l'argomento è così introspettivo e così vario che mi è difficile pronosticarlo, anche perché vorrei la partecipazione vostra, vorrei sentirvi almeno per chi è in diretta, dico, vorrei sentirvi e capire, insomma avere anche delle vostre riflessioni man mano che leggeremo o affronteremo delle preghiere per cercare di capire in che modo vi stimolano, se c'è bisogno di fare degli approfondimenti oppure se l'abbiamo recepita e possiamo proseguire con il resto. Bene, i nostri riferimenti, i riferimenti che ho pensato di scegliere, che ho pensato così di avere per questo percorso, cioè la nostra valigia per fare questo percorso insieme, ovviamente sono i libri di Bhaktivedanta Swami Prabhupada, in particolare il Bhagavatam, la Cetana Chalitamrita e la Bhagavad Gita. Poi ho approfondito e volevo condividere insieme a voi anche dei libri di Shastraru Padasco Swami che trattano proprio di questo argomento. uno è Vandana, che tratta proprio la preghiera, è uno dei nuovi servizi devozionali che possiamo fare insieme all'ascolto, al canto, arriva anche Vandana, ma ne parleremo. Un altro, è un altro bel libro che è più una sua esperienza personale che si chiama, si intitola Entering the Life of Prayer. e dopo un altro, ma ce ne sono tanti, ma un altro, ma sono proprio quelli su cui mi sono un po' spesso fermato, un altro è My Dear Lord Krishna che è una raccolta di preghiere personali che ogni giorno Shastraru Padasco Swami scriveva. E poi ce ne sono vari, magari qualche piccola poesia come abbiamo fatto la scorsa volta. Ovviamente i nostri riferimenti sono gli altri, i nostri maestri acciari che man mano andremo a toccare Bhaktisiddhanta Sarasvati, Bhaktivinoda Thakur, ma anche i nostri, nel senso quelli contemporanei a noi, Radhanasvami. Poi volevo anche, perché fanno parte anche del mio universo, ovviamente io porto quello che sono in qualche modo, quindi volevo anche portare alcuni, alcuni mistici o devoti della tradizione cristiana come San Francesco, San Giovanni della Croce, Santa Teresa d'Avila, Frate Lorenzo, Thomas Merton, perché volevo anche toccare i salmi della Bibbia, eccetera. Insomma, vedete che abbiamo tante cose, ma intanto andiamo un po' per ordine. Allora, ho preso questi 15 minuti, mi scuserete, per dare un po' il senso di come e dove andremo. Che cos'è la preghiera? Cominciamo un po' ad entrare proprio nell'argomento. Che cos'è la preghiera? La preghiera è un mezzo per comunicare con Dio. Questo lo sappiamo un po' tutti, cioè abbiamo proprio l'idea che il momento in cui ci fermiamo a pregare stiamo comunicando con Dio, stiamo comunicando con Lui. A volte magari lo sappiamo come fare, a volte lo facciamo in modo impacciato, a volte lo facciamo in modo frettoloso, a volte ci crediamo oppure no, però insomma sappiamo se qualcuno ci chiedesse, risponderemo alla preghiera un modo e un mezzo per comunicare è il momento in cui comunichi con Dio. Nel Padma Purana c'è un verso famoso che è dovremmo sempre, dopo continua, ma vi dico subito la traduzione, dice Krishna è l'origine di Vishnu e dovrebbe sempre essere ricordato e mai dimenticato. Cioè dovremmo sempre, viene tradotto in modo più veloce, dovremmo sempre ricordarci di Krishna e non dimenticarlo mai. Questo è il principio, il principio che dovremmo seguire. Sono due principi, sempre ricordarsi di Lui e non dimenticarlo mai. A prima vista sembrano la stessa cosa, ma in effetti vanno in direzioni, cioè contrastano direzioni differenti, contrastano direzioni differenti e lo approfondiremo, adesso non mi soffermo, lo approfondiremo nel corso di questo o della prossima lezione. Intanto incominciamo a buttare le basi delle nostre riflessioni appunto. Il linguaggio, che cos'è? Quando pensiamo a una preghiera pensiamo a qualcosa, a un momento in cui noi parliamo. Il linguaggio è uno strumento del pensiero. Questa è una riflessione che stavo leggendo adesso, il mese scorso, un linguista che si chiama famoso, che si chiama Noam Chosky, e diceva il linguaggio è uno strumento del pensiero e solo dopo e solo dopo serve per comunicare. Noi abbiamo in testa, abbiamo l'idea che il linguaggio serva perché ci è utile per comunicare con gli altri, ma molti studi, che io non sono un esperto su questo argomento, ma molti studi confermano invece che sia direttamente uno strumento del pensiero, uno strumento del nostro pensiero, quindi abbiamo un linguaggio per pensare. E stiamo parlando in questo caso qua, in questo caso qua, delle nostre parole interiori, del nostro pensiero proprio interiore, il nostro pensiero, il nostro dialogo interiore che noi facciamo sempre in qualche modo con Dio e che forse la preghiera, quando diciamo questo termine preghiera, pensiamo al nostro dialogo che è incessante, il nostro dialogo che facciamo all'interno di noi, ha un modo per purificare queste parole che ci diciamo a noi e a Dio. Ricordiamoci, anche Krishna Bhagavad Gita dice, il diciottesimo capitolo, il cinquantuno, ma non ricordo della verità, non me lo so neanche segnato, ma è venuto, dice, lui è presente, lui è testimone, lui è presente, è lui che muove la macchina del corpo, quindi lui è proprio vicino a noi, lui ci osserva sempre, è sempre testimone delle nostre azioni, quindi tutto quello che ci, tutto quello che avviene in questo, in questo, in questa appunto macchina del corpo. Nelle parole esteriore, la preghiera però, nelle nostre parole esteriore, la preghiera serve per esprimere i nostri sentimenti, per tirar fuori, allora in questo caso, i nostri sentimenti, per dirceli a noi, per essere coscienti di quello che diciamo a noi stessi, a noi stessi sempre, quindi in qualche modo per tirar fuori ciò che proviamo dentro. La preghiera serve anche per aggiungere una dimensione personale che è la nostra, alla nostra ricerca della verità. Stavo pensando proprio a cosa serve, a cosa, cos'è questa preghiera. Aggiunge proprio una chiave, sì, una dimensione personale perché nel momento in cui quando pensiamo alla preghiera ne pensiamo a noi stessi che preghiamo, pensiamo a un momento introspettivo nostro, che lo facciamo, che non lo facciamo, che l'abbiamo fatto quando eravamo piccoli, magari diciamo angelo di Dio che segnano le preghiere quelle della sera, eccetera, ma quando ricordiamo è un nostro momento, è una nostra dimensione. Si può pregare per qualcun altro, ma non è proprio che un altro prega proprio al posto nostro, è il nostro rapporto che stiamo coltivando con la dimensione divina e con la ricerca della verità. E la preghiera proprio perché aggiunge questa nota personale toglie anche il bianco e il nero del giudizio, dell'assolutismo e aggiunge anche delle scale di grigio nella nostra vita che in qualche modo è incerta. Ale Krishna, Giovanna, Ale Krishna, Paolo. Che nella nostra vita è che è incerta perché appunto mette la nostra dimensione personale è che non siamo bianchi o neri. Non è tutto luce, non è tutto ombra, non è tutto giusto, non è tutto sbagliato, ma se ci guardiamo dentro vediamo che siamo molto più complessi, che siamo molto più complessi, abbiamo una dimensione intima che è molto molto complessa. Mi ricordo, mi viene in mente da un testo che ho letto recentemente che si titolava Wild Garden, diceva che siamo come dei giardini selvaggi, quei giardini non è selvaggi, la traduzione è più spontanea, ecco, quei giardini spontanei dove cresce un po' di tutto, dove crescono fiori, un po' di erbacce, ma anche quell'erbacce in qualche modo siamo noi. negarlo sarebbe un danno per noi, la preghiera proprio ci mette in queste condizioni di ripulire, di portare fuori delle cose, di ripulirle proprio davanti allo sguardo del Signore. Porta anche vitalità in qualche modo alla grazia divina che è vario pinta, che non è pronosticabile, che non è tutta tutta chiara, tutta non è un manuale d'azione, che il Signore si comporta con noi in un modo estremamente creativo, non si muove secondo un sistema fisso e preordinato ed è per questo forse che le scritture raccontano anche di tanti modi in cui il Signore relaziona con i Suoi devoti, di tanti modi in cui i Suoi devoti possono essere Suoi strumenti e sono anche, alcuni sono anche abbastanza controintuitivi, magari alcuni approfondiremo, ma il punto è che porta proprio la nostra questa dimensione personale fa declinare la grazia divina anche nella nostra piccola vita, nella nostra piccola vita e in più crea anche quella solitudine del cuore nella quale un po' possiamo trovare noi stessi, cioè crea la preghiera crea quello spazio, quel momento spazio temporale che apre un po' il nostro cuore, ci porta, vi ricordate erano una delle ultime qualità che abbiamo fatto, c'era la mi sfugge il termine il termine guru, 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 mi sfugge il termine, era la ventitraesima, che il guru è pesante e profondo, adesso non so, mi sfugge il termine è pesante e profondo, proprio questa dimensione del cuore che è molto aperta e la preghiera tende ad aprire il nostro cuore, tende ad aprire il nostro cuore, a creare uno spazio nostro, uno spazio intimo, uno spazio personale, solitario in qualche modo, perché è bello anche pregare insieme, è molto bello, è molto bello pregare insieme, però sappiamo che anche mentre preghiamo insieme comunque stiamo pregando da soli, anche, stiamo sia pregando insieme ma anche pregando da soli, perché siamo noi che mettiamo l'intento, lo spirito proprio in quel momento ed è solo nostro quell'intento, ce lo sappiamo solo noi e a chi è rivolto solo noi al Signore, sappiamo quello specifico intento e anche la preghiera secondo me è così evidenza anche la diversità di ognuno e le nostre responsabilità personali nel cammino, nel senso ci mette in una condizione di, perché appunto quando ci ci sediamo al cospetto di Dio e cerchiamo un dialogo cosciente, ecco, un dialogo cosciente con Lui, quindi vorremmo parlare con Lui, questo ovviamente porta anche responsabilità dopo le nostre azioni, nei nostri pensieri, in quello che facciamo dopo, nelle risoluzioni che abbiamo preso, attraverso le risoluzioni che abbiamo preso, attraverso quello che abbiamo chiesto, che dopo se siamo in grado o no di accettare quello che abbiamo chiesto. La preghiera dovrebbe essere, lo dice Shiva nel Bhagavata, ma toccheremo anche questa bella preghiera, ai figli di Aray Prachinabharit, dice, la preghiera dovrebbe essere Asakrit, cioè senza interruzione, e di fatto se allarghiamo questo concetto di preghiera, come stiamo facendo, come stiamo cercando di fare, di fatto lo è, di fatto noi abbiamo continuamente, abbiamo un continuo dialogo con le nostre dimensioni, c'è anche la dimensione verticale, c'è anche la dimensione con Dio, abbiamo un continuo dialogo con Lui, è che molte volte non ne siamo coscienti, e quindi non siamo coscienti di come stiamo comunicando con Lui, perché le cose noi le facciamo, i pensieri le abbiamo, i desideri, noi le abbiamo dentro di noi, i desideri li stiamo anche coltivando in qualche modo, le nostre aspirazioni dentro ci sono, continuano ad agire, non è solo quel momento se lo facciamo o non lo facciamo, quel momento in cui ci mettiamo magari in ginocchio a mani giunte e preghiamo che scatta, che c'è la chiamata al telefono al Signore, noi continuamente dialoghiamo con Lui, siamo parte di Lui, quindi continuamente siamo vicini a Lui e dialoghiamo con Lui, ma spesso appunto non sappiamo quello che stiamo facendo, non sappiamo quello che stiamo dicendo, non sappiamo come stiamo comunicando con Lui e poi ovviamente non sappiamo ciò che stiamo chiedendo a Lui e poi ovviamente dopo le cose nella vita ci capitano con nostra profonda sorpresa e anche alcune di queste ci mettono anche così a dura prova, sono delle belle sfide, diciamo ma come mai ci sono accapitate, quello è successo, quindi la preghiera in qualche modo purifica, rende cosciente il modo in cui noi stiamo già parlando con Lui infatti ricordiamoci quello che abbiamo detto all'unico siamo tutti siamo già siamo tutti nell'orbita attorno al Signore e in più la vita spirituale stessa è fatta di preghiera e di umiltà quindi capiamo che la preghiera è in qualche modo un'arte segreta, l'arte segreta proprio di parlare con Dio e incominciamo un po' incomincio da una volevo cominciare dall'inizio proprio di Vandana nel libro di Sasvarupa Daskorswami che ricorda una preghiera famosa la preghiera di Gagendra siamo nel ottavo canto all'inizio questo è proprio l'inizio del capitolo 3 ma il fatto si succede nel capitolo 2 e poi prosegue nel capitolo 3 e dopo nel capitolo 4 e in poi anche forse tocca il capitolo 5 Gagendra re degli elefanti Hare Krishna Claudia Hare Krishna Maria Gagendra re degli elefanti vabbè non non faccio lo storytelling della situazione comunque per Gagendra re degli elefanti va su un laghetto bellissimo pensiamo a re degli elefanti nelle storie del Bhagavatam quindi un elefante non l'animale che vediamo un elefante cosciente evoluto che relaziona con i suoi pari alle mogli insomma come se fossimo noi ecco pensiamo a una figura così si fa un bagno in un lago e a un certo punto un coccodrillo la zanna una zampa la zanna una zampa lui cerca di dimenarsi cerca di di sfuggire al al morso ma vede che non ce la fa capisce che la situazione sta prendendo una piega una piega verso il peggio diciamo così e allora in quel momento incomincia appunto il capitolo 3 e dice in seguito il re degli elefanti Gajendra fissò la mente nel cuore con perfetta intelligenza e cantò un mantra che aveva imparato nella sua esistenza precedente quando era stato Indra Dhyumna e che per grazia di Krishna potei ricordare quindi fissa la mente nel cuore con perfetta intelligenza e canta un mantra e da lì incomincia una preghiera bellissima una preghiera bellissima che leggeremo insieme non ora non ora perché le voglio adesso stiamo così facendo un po' un ingresso al tema un'introduzione al tema ma sicuramente la leggeremo e lì inizia una una preghiera bellissima a Krishna che il popolo gli sta chiedendo un aiuto gli sta chiedendo un aiuto Harry Krishna Giovanni ma quello che mi premeva è che che nel commento una cosa interessante Prabhupada dice beh richiama la Bhagavad Gita capitolo 6 verso 43 44 e lo richiama in un modo anche come dire con una visione laterale insomma di quel verso dice lo yogi si riconnetta alle comprensioni della vita precedente e prosegue senza sforzo il suo sentiero qua nel capitolo 6 in quei versi Krishna racconta qual è il come dire il destino di chi segue la via della virtù segue la via della virtù dice se non ha completato il suo il suo percorso comunque rinasce in una buona famiglia ha delle buone condizioni per proseguire e praticamente quasi prosegue in automatico perché si riconnette alle realizzazioni che aveva avuto nella vita precedente e continua il suo percorso perché il principio di quel capitolo il punto il principio di Krishna in quel momento può far capire che nel sentiero spirituale nulla viene perso e questa è una grande fortuna e una grande misericordia del Signore comunque nulla viene perso quindi anche in questo caso Gajendra ed è per questo anche che l'arte di imparare l'arte segreta di imparare a parlare con Dio è così è così importante perché comunque non perderemo nulla non perderemo nulla è molto vasta è molto profonda è sempre più profonda lo vedo così ma non su di me ma lo vedo così nella vita dei maestri è sempre più profonda tocca livelli sempre più sottili e oltre e abbiamo la consapevolezza che è un dialogo continuo è un'arte continua non interrompiamo mai e quindi e quindi Prabhupada appunto nel commento riporta questo e dopo dice tutti devono esercitarsi in modo da cantare perfettamente qualche mantra appunto dicendo perché così se lo sappiamo cantare perfettamente se ci capitasse qualcosa automaticamente automaticamente per la grazia del Signore perché è Lui che dà il nostro ricordo e anche l'oblio ma affiorerebbe in modo naturale ecco non automaticamente ma in modo naturale affiorerebbe alla nostra memoria e in quel momento lì sarebbe dei grandi aiuto quindi che tipo di preghiere dovremmo fare quali sono i tipi di preghiere che dovremmo fare in mantra magari ci sono alcuni non so nel lettere delle devozioni c'è scritto che dovremmo fare delle preghiere uno dei principi del devoto dovrebbe quando entra in la sala del tempio dovrebbe avvicinarsi alla divinità e fare e dire delle preghiere a loro direttamente a loro oppure abbiamo oppure abbiamo gli Shastra che ci aiutano che ci aiutano a a formulare delle preghiere perché ci sono dei devoti molto avanzati che che le hanno già fatte appunto come questa Gajendra basta leggere quella e potremmo memorizzare questa potremmo memorizzare quella preghiera oppure noi abbiamo come il grande mantra abbiamo il maha mantra ma mantra di Krishna che è quello che Prabhupada ci dice di non memorizzare proprio di fare nostro completamente nel nostro cuore di accettarlo completamente nel nostro cuore perché in effetti è è il mezzo nei Kali Yuga ma dopo lo affronteremo meglio al mezzo nei Kali Yuga proprio per la liberazione oppure anche delle preghiere personali oppure delle preghiere personali il punto è forse il punto è che è più importante rispetto a cosa noi scegliamo è più importante la qualità la qualità e la devozione che offriamo mentre noi facciamo questo questo atto infatti appunto Gajendra usa cioè nel Bhagavatam usa questa questa espressione che dice Sammadaya Manoridi cioè concentrare la mente nel cuore concentrare la mente nel cuore quindi è la qualità è lo spirito quello che noi dovremmo acquisire attraverso l'arte segreta di parlare con Dio forse è questo spirito questa consapevolezza di ciò che stiamo facendo ma anche che che stiamo connettendo delle parti molto profonde di noi che siamo noi un po' un po' nudi davanti al Signore un po' noi stessi davanti al Signore e di concentrare pienamente la nostra mente nel nostro cuore che questo pian piano vedremo anche cosa significa ovviamente sto mettendo là dei punti capisco che sono un po' che li sto un po' mettendo e lasciando il punto è che noi preghiamo quando rompiamo preghiamo veramente quando rompiamo il guscio materiale che ci ricopre che vuol dire anche la mente quella mente che si muove in modo materiale e parliamo direttamente col Signore e per quello che dobbiamo un po' risiedere quello che dobbiamo trovare lo spazio nel cuore e deve essere fatta dal cuore ma con un cuore pacifico vi ricordate Shanti era una bella qualità divina non mi ricordo il numero ma non mi ricordo adesso non so perché ho testa che devo ricordarmi il numero ma Shanti era proprio questo pacifico proprio questa che ha rappacificato il cuore quindi è questo che dovremmo trovare ad esempio Shila Prabhupada diceva di chiedere cosa chiedere a Krishna chiedere per favore permettimi di amarti quindi anche preghiere molto semplici ma se vengono se vengono dette col cuore dal cuore pacifico cercando ricollegarsi direttamente a lui acquistano un significato molto 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 profondo ed efficace anche per noi quali sono intanto guardo scusate guardo ok perfetto guardavo loro e quali sono i tipi di preghiera l'abbiamo abbiamo già intuito abbiamo già visto sono molte sono le preghiere allora alcune un tipo sono le preghiere negli Shastra ne troviamo molte ne troviamo molte ad esempio nel Bhagavatam beh il Bhagavatam è fortunatamente pieno di preghiere tante tante basta leggere l'indice dei capitoli proprio ci sono capitoli che vengono chiamati proprio le preghiere di le preghiere di le preghiere di abbiamo le preghiere della regina Kunti abbiamo le preghiere di Bhishmadeva sul campo di battaglia che giace che sta in attesa della sua di partita abbiamo le preghiere di Brahma abbiamo più volte le preghiere di Brahma abbiamo le preghiere degli abitanti dei Jambodwip abbiamo le Hamsaguya abbiamo le preghiere di Pralada abbiamo le preghiere di Gagendra le preghiere degli esseri celesti le preghiere di Akrura e tante altre questi non non sono solo modi per trasmettere la filosofia perché quando le leggiamo in effetti sono preghiere molto strutturate non sono Krishna per favore permettimi di amarti sono proprio preghiere che dicono proprio verità dicono cioè entrano nei dettagli penso alle preghiere degli esseri celesti o alle preghiere dei veda personificati nel decimo canto proprio entrano nei dettagli più sottili della filosofia ma non sono solo questo almeno non è la parte che mi interessa almeno in questo in questo contesto ecco nel contesto in cui siamo in cui ci stiamo muovendo stiamo iniziando a fare i primi passi ma più che altro sono espressioni di pensieri ed emozioni di alcuni devoti durante una particolare situazione ed è questo forse che ci terrei proprio ad entrare insieme a voi a capire insieme a voi le situazioni possono essere le più varie può essere un darshan come Dhruvamaraj che ha avuto un darshan un darshan di Vishnu un samadhi può essere un momento di samadhi può essere anche nei momenti appunto come abbiamo appena appena accennato a Gajendra al momento di pericolo sui momenti di pericolo in cui proprio come dire fai l'ultimo l'ultimo movimento l'ultimo movimento verticale in altezza per cercare di connetterti ma in ogni caso in ogni caso sono tutte queste sono ispirate da Dio e rappresentano in qualche modo la sua misericordia non sono ovviamente non sono io che lo dico lo dice proprio lui spessissimo quando alla fine delle preghiere quando Krishna prende la parola lo dice proprio una delle prime cose sono molto soddisfatto delle preghiere che ha appena detto che in realtà sono ispirate da me e in realtà rappresentano la mia misericordia lo dice spesso questo quindi questo parlare capiamo anche noi chi siamo con chi stiamo parlando non stiamo parlando con una persona alla pari stiamo parlando con appunto vorremmo vorremmo parlare con Dio vorremmo essere coscienti di questo dialogo che è comunque tutto è comunque tutta una sua creazione in qualche modo se noi gli permettiamo di creare delle belle preghiere profonde se noi siamo pronti abbiamo il cuore pacifico abbiamo la mente libera allora lui potrà creare potrà come abbiamo detto come abbiamo visto anche nelle qualità riversare la sua misericordia permetterci di avere appunto di usare queste parole questo dialogo interiore che siano una lode a lui un ringraziamento a lui eccetera e sono degli ottimi esempi queste preghiere dell'isciastra che appunto sono sarà bello insomma affrontarle guardarle insieme sono degli ottimi esempi per capire anche come avvicinarsi a lui che non è così così in qualche modo così scontato e anche perché ci sono tanti modi in cui appunto questi devoti li sono avvicinati a Krishna e poi ci sono le preghiere personali le preghiere personali ossia rivelare proprio il nostro cuore i nostri pensieri in modo spontaneo quindi non seguendo una struttura articolata non ricordandoci a memoria delle delle preghiere di altri anche magari se ne viviamo lo spirito ma vabbè aprire in modo spontaneo in modo improvvisato in qualche modo in modo improvvisato il nostro cuore i nostri pensieri a Dio e in questo in questo per questa situazione vorrei leggervi un un verso e commento dello Shima Bhagavatam siamo vediamo se ho preso la cosa giù sì perfetto siamo nel 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 canto terzo capitolo 9 verso 24 il capitolo è le preghiere di Brahma in vista della creazione perché Brahma più volte si fa delle bellissime preghiere a Krishna allora il vi leggo direttamente il commento molto bello allora ogni persona che in questo mondo materiale è impegnata nel servizio d'amore trascendentale offerto al Signore è portata a compiere molte attività materiali e chi non è abbastanza forte per proteggersi dagli attacchi della contaminazione materiale finirà con l'allontanarsi dall'energia spirituale durante la creazione materiale Brahma deve produrre ogni tipo di esseri con corpi adatti alle loro rispettive condizioni e sapendo che entrerà in contatto con un'infinità di esseri corrotti ovviamente perché fa parte della creazione vuole essere protetto dal Signore un normale Brahmana può perdere il suo Brahma Teja Teja è il fuoco proprio l'eccellenza del suo potere braminico a contatto con un eccessivo numero di anime cadute Brahma il più elevato di tutti i Brahmana teme una simile caduta perciò prega il Signore di proteggerlo questo è un avvertimento utile per tutti coloro che desiderano progredire nella vita spirituale se non si è abbastanza protetti dal Signore si può cadere della propria posizione spirituale perciò bisogna costantemente pregare il Signore di proteggerci e darci le benedizioni necessarie per compiere il nostro dovere a questo proposito notiamo che Sciricetania affidando la sua opera missionaria ai suoi devoti gli assicurò che li avrebbe sempre protetti degli attacchi dell'energia materiale i Veda paragonano la vita spirituale alla lama filata di un rasoio una minima disattenzione può causare una ferita ma l'anima completamente arresa che cerca sempre la protezione del Signore nel compimento dei devori che gli sono stati sfidati non ha paura di essere vittima della contaminazione materiale adesso abbiamo toccato i termini contaminazione materiale eccetera ma il punto è appunto che Prabhupada dice aspetta che sposto questo però dopo che Prabhupada stesso dice che dovremmo chiedere sempre la protezione del Signore ovviamente la protezione del Signore si chiede appunto attraverso un dialogo con Lui attraverso una preghiera e poi in un altro punto così ho preso nella passeggiata a Maia pur del 5 aprile del 75 stava conversando con Rameshwara e a un certo punto vi leggo le tre righe e si racconta dopo e ti dice proprio dice c'è un processo come parlare con Dio e Rameshwara risponde il suo discepolo ma noi siamo così insignificanti perché Dio dovrebbe perdere tempo parlando con noi ce la puro padre risponde perché siete i suoi figli sebbene tu sei insignificante sei figlio di Dio perciò a Lui piace parlare con i suoi figli come un bambino piccolo e tutti sanno che non può parlare lo stesso il padre cerca di farlo parlare per divertirsi insieme il tempio di Maia pur Cendro Daya sta insegnando come parlare con Dio questa è la nostra missione infatti Krishna è più interessato alla nostra devozione che alla nostra capacità di memorizzare versi di memorizzare versi per quanto siano utili per quanto siano utili perché in effetti sono utili ci sono alcuni versi insomma anche ma anche versi della Bhagavad Gita che diventano proprio dei come dire delle delle ancore in certi momenti ma non in quanto le abbiamo memorizzati ma in quanto le abbiamo in qualche modo compresi in quanto le abbiamo fatti le abbiamo integrati alla nostra personalità alla nostra natura al nostro pensiero alla nostra vita le abbiamo fatti i nostri quindi Krishna lo dice lo dice se no avrebbe detto impara non so nelle sue cose invece che di dire dai a me le tue offerte o con amore avrebbe detto impara gli inni vedici e poi torna da me insomma ma non ha mai detto questa cosa qua e la preghiera personale ed è la preghiera personale che stimola questo tipo adesso questa anche che vorrei soffermarmi per un po' è la preghiera personale che proprio stimola questo tipo di rapporto perché appunto come dicevo prima ci mette un po' a nudo ci mette un po' allo scoperto non possiamo così mentre stiamo leggendo così si dice c'è questo questo letto che quando uno cita una persona in qualche modo viene collegato a quella persona e quindi acquista autorevolezza quindi c'è anche un'arte nel citare le cose nel citare gli autori perché se io cito Socrate in qualche modo cioè mentalmente vengo collegato alla figura di Socrate eccetera però invece la preghiera è qualcosa che va al di là perché la preghiera siamo noi la preghiera sono le nostre parole quelle che escono da noi e quindi ci mette ci fa un po' capire anche in che modo in che tipo di devozione abbiamo per il Signore cosa riusciamo realmente a dire a dire a Lui in modo esplicito con le nostre parole quindi ci mette nelle condizioni di essere onesti con noi stessi se vogliamo esserlo ovviamente possiamo ovvio possiamo fingere anche lì però ci mette nelle condizioni di essere onesti cioè ci porta ci ispira ad essere onesti e poi c'è una preghiera abbiamo detto le preghiere dell'isciastra le preghiere personali c'è il mantra Hare Krishna il mantra Hare Krishna la Brihanna Radha Purana il Brihanna Radha Purana dice il famoso verso Are Nama Are Nama Are Nama Eva Kevalam Kalonastieva Nastieva Nastieva Gatiranyata dice nell'epoca di Kali questa questa epoca di discordia di conflitto l'unico modo per liberarsi è il canto dei santi nomi divini non c'è altra via non c'è altra via non c'è altra via proprio viene viene sottolineata questa importanza esclusiva e la potenza esclusiva del nome di Dio e possiamo dire che in tutte le tradizioni viene sottolineata questa importanza non c'è tradizione in cui in cui non se ne parla perché anche la tradizione cristiana ha dei salmi stupendi proprio sulle glorie del nome del Signore a questo proposito scusate sì a questo proposito volevo leggere un altro un altro commento di Sheila Prabhupada allora proprio su un verso simile in questa era di Kali non c'è altro principio siamo nel Adilila capitolo 7 verso 74 non c'è altro principio religioso eccetto il canto del santo nome che è l'essenza di tutti gli inni vedici questo è il significato di tutte le scritture in questa era leggo a tratti il commento non lo leggo interamente in questa era tutti sono pronti a sostenere che è possibile comprendere ciò che è al di là della conoscenza della percezione limitata mediante la cosiddetta osservazione scientifica e la sperimentazione senza sapere che la verità è trasmessa all'uomo da autorità superiori questo atteggiamento polemico si oppone ai principi velici e chi lo assume ben difficilmente riuscirà a capire che il santo nome di Krishna equivale a Krishna stesso perché Krishna non è differente dal suo santo nome però poiché Krishna non è differente dal suo santo nome il santo nome è eternamente puro ed è situato al di là di ogni contaminazione materiale vado avanti ok il mondo scusate la pagina mi si è eccola qua il mondo spirituale detto vai kunta che significa senza ansietà nel mondo materiale ogni cosa è piena di ansia kunta mentre nel mondo spirituale vai kunta ogni cosa è libera dall'ansia perciò coloro che sono afflitti dalle più disparate forme di ansia non possono comprendere il mantra di Krishna che è libero da ogni ansia nell'epoca attuale il suono del mantra di Krishna è l'unico procedimento situato in una situazione trascendentale al di là della contaminazione materiale ascoltate qui poiché il santo nome può liberare l'anima condizionata è definito qui Sarva Mantra Sara l'essenza di tutti gli inni vedici e poi eccola qua perfetto l'essenza di tutti gli inni vedici bene quindi Shira Prabhupada appunto dice che in nessuna circostanza dovremmo dimenticare il canto del Ma Mantra perché appunto questo lo ripetiamo cioè viene detto varie volte moltissime volte perché è il punto cruciale insomma della testimonianza di Shira Prabhupada dice che il canto dei nomi divini è l'unico modo per superare anche il Bhagavatam lo conferma è l'unico modo per superare l'oceano dell'esistenza materiale però anche il canto del Ma Mantra presuppone un'attitudine di preghiera perché siamo in presenza di Dio di Krishna Dharani attraverso il loro nome divino Bhaktinoda Thakur proprio dice che pronunciando le sillabe esteriori del santo nome non significa che si sia che si stia realmente cantando il santo nome quindi è la qualità anche in questo caso lo spirito che conta come negli altri tipi di preghiera che quindi deve essere fatta con un sentimento che viene definito Priti Purvakam lo definisce Prabhupada con amore e Shira Prabhupada dice che Krishna non dice di offrirgli appunto i nidvedici ma di offrirgli bhakti e attenzione e com'è questa qualità l'affronteremo l'affronteremo meglio adesso sto appunto buttando dei semi di riflessione l'affronteremo ma cos'è questa qualità nel canto del Ma Mantra anche questo è l'attenzione la determinazione la costanza il rispetto dell'impegno preso perché comunque ogni preghiera ha anche una responsabilità ma soprattutto la coerenza la coerenza bene io direi che vorrei lasciare a voi un po' le parole giusto per non arrivare troppo il materiale c'è la prossima volta affronteremo di materiale ce n'è insomma ovviamente ma non volevo arrivare troppo troppo a ridosso delle sette perché volevo prima sentire un po' voi anche cosa ne pensate in che modo state riflettendo su questo argomento se avete delle domande in proposito oppure rispetto a quello che ho appena detto la prossima volta oggi abbiamo fatto delle cose abbiamo guardato abbiamo fatto una piccola introduzione abbiamo guardato i tipi di preghiera e la prossima volta guarderemo anche a cosa servono a cosa servono le preghiere perché ci sono tante modalità ci sono tante ragioni per cui noi vogliamo pregare potremmo pregare per lodare potremmo pregare per ringraziare potremmo pregare anche per chiedere potremmo pregare per chiedere cose materiali magari potremmo pregare per chiedere qualità spirituali o sì qualità spirituali oppure potremmo pregare anche per chiedere sostegno per chiedere comprensione cioè proprio comprensione nel senso di capire delle cose ecco per chiedere nuova comprensione per chiedere in questo caso conoscenza potremmo anche preghiare per chiedere perdono e la prossima volta appunto affronteremo a cosa servono queste preghiere affronteremo un po' più nel dettaglio questi piccoli aspetti per poi entrare anche ma per poi entrare direttamente con degli esempi e incominciare a immergersi in questo bellissimo io sono veramente emozionato molto contento e tanto che lo aspettavo questo momento e proprio di stare insieme a voi e poter condividere insieme a voi queste sentire anche le vostre condivisioni rispetto a questo argomento che mi sta veramente molto a cuore perché capisco che è un po' una chiave che mi manca ecco sappiate insomma io sto facendo le cose anche da un punto di vista un po' egoistico cioè dove vedo che mi manca allora cerco di prendere del tempo così comincio a rifletterci ma magari qualcosa può avvenire nel mio cuore come le 26 qualità che così avevo capito che avevo necessità e quindi l'ho messa sul piatto vostro anche in questo caso capisco che la dimensione della preghiera è una dimensione estremamente essenziale nella nostra vita che a volte così viene vista un po' o in modo meccanico o in modo superficiale o in modo secondario in qualche modo magari c'è l'attività che prende un po' il sopravvento oppure le cose non dette in qualche modo invece la preghiera è proprio un dire le cose proprio un aprire il nostro cuore quindi ritengo che sia un elemento chiave almeno lo vedo anche nel tipo di sviluppo che hanno preso alcune vite di alcuni maestri proprio vedo che sono un elemento chiave e quindi per quello sono qui ecco per quello sono qui per mettere sul tavolo certi alcuni argomenti e cercare vedere se frullando questo oceano viene fuori qualcosa bene se avete qualcosa sono perfetto siamo giusti sono contento sapete il mio limite che è quello di solito un po' di sforare quindi sono sempre contento quando arrivo in orario allora è perfetto ho potuto giocare appunto prendere appunti bella lezione di preparazione grazie tanto di imparare apprezzo che parli più lentamente che l'ultima volta ah l'ultima lezione che ho fatto quella alla quella che ho fatto per il padesco in effetti dovevo fare il forse ti indichi quella immagino dovevo fare le 26 qualità in un'ora e sono andato mi sono accorto che sono andato via come come un razzo quindi se la potete vedere su youtube mettete la velocità ridotta 0.75 magari riuscirete a capire qualcosa mi scuso mi scuso ma c'era tanto da dire ovviamente allora la preghiera da Nalalita la preghiera può essere un dialogo col signore certo è proprio parlare con dio in ogni momento della giornata come fosse un amico presente benché invisibile proprio esatto e appunto vedremo anche che è presente che è presente può essere un parlare col cuore al nostro krishna senza citare mantra prescritti perfetto fantastico sono molto felice da Nalalita ho colto il punto è proprio così guarderemo i mantra prescritti nel senso no ma solo i mantra dopo le preghiere articolate perché sono proprio fonte di ispirazione per capire anche quali sono dove si può arrivare ecco in qualche modo però ovviamente il focus è sviluppare una nostra preghiera personale cioè sviluppare un nostro sentimento di preghiera personale senza chiedere alcunché ma ringraziarlo per una continua dimensione ovunque sempre per grazia che sia bene o male esatto questo è un tipo di preghiera può essere considerata preghiera e rivolgersi a Rada e Govinda bellissimo il tuo commento ottimo proprio nello spirito perfetto può essere considerata preghiera e rivolgersi a Rada e Govinda anche solo per chiedere ti va bene se domani ti metto questo vestito certo questo è il rapporto personale dell'adorazione della divinità sto andando dai miei genitori mi puoi aiutare ad esprimermi meglio meglio di ieri se lo desideri certamente lo desidererà hai freddo ho un'altra copertina oggi ho sbagliato a rispondere al mio fratello mi dai le parole giuste per recuperare non so sì è un po' così è un po' così immagino cioè vedo che è un po' così è proprio farlo entrare pienamente nel nostro non è proprio un parlare sapendo che non stiamo parlando da soli sapendo che stiamo parlando con qualcuno che non stiamo facendo un film teorico ma che in realtà stiamo parlando con una persona che è più vicina a noi al mondo perché chiedere a Shri Krishna di proteggerci di quando ci protegge sempre e comunque come me non per umiltà ma credetemi non lo merito proprio e ci ama molto più di quanto possiamo immaginare di cosa sia la parola amore scusa se magari non ho saputo leggere con l'articolazione giusta i puntini ma comunque sì chiedere anche a lui che ci protegga perché lui lo fa sempre però sai il fatto che sì c'è questa cosa ma siccome Krishna sa tutto conosce tutto fa già tutto perché io dovrei dire delle cose lui sa già il mio meglio sa già tutto di me conosce già i miei pensieri più profondi molto più di quanto io ne conosca è perché? perché perché lui sta cercando una relazione e noi stiamo cercando una relazione stiamo cercando una relazione quindi anche se bene lui sia un ipotente e sa già tutto di passato, presente e futuro tutto di tutto e sia tutto noi siamo una piccola parte dobbiamo noi connetterci a questo tutto Claudio è stasiante Gloria ok perfetto Gloria di cuore del bel messaggio sono contento che vi sia che l'intro così il semi vi sia piaciuto io parlo ecco Dora io parlo con Krishna davanti al mio altare come se fosse un amico gli racconto di me gli chiedo di guidarmi bellissimo perfetto proprio perfetto bellissimo ottimo bene sono contento allora è proprio così proprio così allora vorrei la scorsa sì anche la scorsa volta ovviamente ma in questo caso qua ancora di più perché abbiamo ancora più come dire la preghiera proprio su vari livelli tutti noi siamo qui appunto che stiamo pregando il Signore in qualche modo quindi è bello anche che sia non stiamo parlando della qualità divina ecco dove è anche un po' difficile parlarne ma stiamo parlando un po' del nostro rapporto con il Signore in tutti i modi e quindi sarebbe bello proprio dare non possiamo parlare perché non abbiamo questa facoltà in Facebook e nemmeno YouTube però insomma però scriverci e darci così alla fine dei vostri commenti all'inizio alla fine in mezzo insomma dove volete dei vostri commenti per integrare anche la vostra e ovviamente le vostre esperienze che appunto vedo che sono molto più profonde delle mie bene intanto vi ringrazio e vi saluto è stato un piacere sono molto felice di ripartire e di ripartire insieme a voi Hare Krishna a presto